Sei anche tu una persona che tende alla procrastinazione, cioè a rimandare ad una data da destinarsi, magari mai, inate attività? Fai, vai, vai, ce la puoi fare! Sappi che questo genere di atteggiamento non funziona. Contare sulla motivazione e sulla forza di volontà può funzionare solo per brevi periodi. Che cosa puoi fare allora per evitare di procrastinare? Ci sono due aspetti da tenere bene in considerazione. Il primo legato alla organizzazione, individuare le cause di distrazione e quindi eliminarli. Organizzare la tua agenda in ordine di priorità e senza trascurare anche la tua vita personale. Tre, analizzare anche i dati e i risultati in modo da migliorare sempre di più questo processo. Il secondo fattore da tenere in considerazione è anche l'aspetto emotivo. Molto spesso la procrastinazione è legata a un problema di tipo emotivo. Quella cosa lì assolutamente non la vuoi fare o non ti interessa. Se ti interessa questo argomento e vuoi approfondire, ti aspetto venerdì 16 alle ore 17 sul mio canale YouTube. Io insieme al dottor Federico Gullotta, psicologo del lavoro, andremo ad analizzare la procrastinazione e questi due aspetti in modo da darti degli spunti da poter applicare subito anche nella tua attività lavorativa. Ci vediamo su YouTube.